molto bene dovremmo essere collegati ragazzi benvenuti benvenuti al corso di disegno volume 5 quindi il corso di disegno 2019 del sottoscritto del canale marionetta matta ecco per chi non lo sapesse tutti gli anni faccio un corso di disegno e ovviamente c'è anche una classe legata a questo corso non tanto ovviamente perché questa cosa la faccio solo io però in ogni caso c'è proprio questa struttura un po come fossero appunto dei veri e propri corsi di disegno ok ci troviamo al volume numero 5 e quest'anno ho deciso di aprire diciamo la classe un po tutti quanti negli anni precedenti c'erano le classi piuttosto chiuse ok quindi si raggiungeva un numero di partecipanti dopodiché non si poteva non potevano più entrare le persone da quest'anno sono cambiate un pochino le cose e quindi ho deciso di dare un po la possibilità a tutti quanti di partecipare in che modo molto semplice seguite il canale marionetta matta guardate tutti i video del venerdì uno di questi video durante il mese fa parte del corso di disegno in cui faccio una spiegazione spiego una cosa e vi do un esercizio da fare nella questione della fattispecie questo esercizio numero uno prevedeva la il disegnare la posa perché era diciamo un esercizio in riferimento alle reference ok quindi al saper utilizzare utilizzare nel giusto modo le reference ecco qui abbiamo qui proprio sotto di me abbiamo la reference utilizzata ok dovevate praticamente prendere questa reference e ridisegnare la posa ma solo la posa perché poi il resto del personaggio ve lo dovevate inventare intanto saluto tutti quelli che si stanno collegando in questo momento bannicola simone giulia francesco tipo timido anna insomma adesso state arrivando un po tutti quanti e grazie come sempre per essere qui allora direi che possiamo iniziare a correggere i vostri disegni tanto questo qui lo tolgo e inizieremo a correggere ovviamente i disegni a ritroso quindi coloro che hanno postato l'esercizio per primi saranno corretti per primi mi sembra una cosa abbastanza giusta ok il primo in questione è proprio lui questo questo lupo mannaro è creato davvero io adesso qui ho la pagina di amino della mia community di disegno se volete partecipare a questo corso dovrete entrare nella community di disegno di amino disegnare con marionetta trovate il link della app direttamente qui sotto nelle info di questo video oppure cioè inoltre oltre al link diretto c'è anche un tutorial per chi non conoscesse questa nuova applicazione appunto chiamata amino in cui vi spiego tutto quanto allora ho notato che alcuni di voi non hanno postato il disegno nella categoria correggo i vostri disegni o spero che nel corso della giornata abbiate modificato la cosa è perché chiaramente io vado a correggere solo i disegni di coloro che si trovano all'interno di quella categoria e tutti i disegni che sono stati postati entro le sei di pomeriggio quindi tutti quelli che sono stati postati dopo le sei di pomeriggio non saranno corretti detto questo cominciamo allora a ultimissima cosa se volete parlare direttamente con me quindi farmi delle domande dirmi una cosa direttamente in chat vi chiedo la gentilezza di taggarmi come sempre voi scrivete chiocciolina tutorial disegno marionetta matta ma tanto già la voce tutorial comparirà il mio nome ci cliccate sopra e poi dite quello che volete quello che volete insomma così che io avrò la possibilità di vedere subito il colpo d'occhio le domande rivolte a me allora veron ci dice ecco il mio disegno per il primo esercizio del volume la forma della reference mi ricordava un lupo mannaro e quindi eccolo qui spero vi piaccia ok allora andiamo a vedere un attimino questo lupo mannaro e vedere se posso darti qualche consiglio al riguardo anzitutto la struttura a livello anatomico secondo me funziona ci sta è fatta bene guarda io l'unico consiglio che mi sento di darti ma proprio una piccolezza è ok però insomma penso che possa esserti utile qui in questo punto in questa zona qua io avrei praticamente fatto vedere la natica e non il tallone avrei fatto una cosa del genere ok avrei fatto una cosa del genere perché in questo modo disegnando il diciamo questa questa posizione si illude diciamo chi sta guardando appunto che il piede si trova dietro ok mentre se andiamo a cancellare e andiamo a disegnare in questo punto la diciamo il tallone ecco lì che sembra che il piede sta tutto sta praticamente non sta diciamo rivolto verso verso le spalle verso il sedere della del lupo mannaro ma proprio così proprio dritto per dritto e questo è una cosa un po innaturale ok debbi max non sono arrivato a fare questo esercizio ma spero per quello di san valentino dai non ti preoccupare capito per il resto mi sembra che la posa sia corretta e il disegno è molto carino e complimenti anche appunto per la per l'idea che hai avuto e grazie allora andiamo avanti il secondo partecipante era in questione era sabri chan andiamo a leggere sabri chan che dice intanto andiamo a cercarla sabri chan eccola qua ecco il suo disegno e dice sabri ehi gente mi dispiace non essere stata molto attiva ma purtroppo la scuola mi stressa abbastanza potrei immaginare anche se non vado a scuola tipo da vent'anni ma banda alle ciance e ciancia alle bande ecco qui il mio disegno spero che vi piaccia anche se effettivamente credo che avrei potuto fare di meglio con l'inchiostrazione ma pazienza ho solo sabato e domenica per disegnare quindi torno al lavoro ok benissimo andiamo a vedere quindi il disegno di sabri chan allora sabri vediamo se posso da anzitutto ti faccio i miei complimenti per per come hai strutturato questo disegno devo dire che è molto curato ci sono un sacco di dettagli fichi che meritano insomma di essere di essere guardati per bene guardate le scritte vabbè qui se vado ad allargare si 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 pixella tutto però qui ci sono delle scritte in giapponese chissà che cosa c'è scritto ma anche tutte queste questi tatuaggi guardate gli anelli è molto bello questo disegno molto curato nei dettagli ecco se così possiamo dire allora l'unico errore che secondo me dovremmo un attimino analizzare si trova aspetta vado a prendere lo strumento in questione ok si trova praticamente qui questa coscia mi sembra un po piccolina rispetto all'altra e rispetto diciamo proprio in generale perché guarda tu qui mi fai la i fianchi diciamo della ragazza ok qui c'è linguine e va bene e io questa coscia l'avrei allungata un pochino di più l'avrei allungata un pochino di più secondo me funzionava un po meglio se la facevi diciamo così ok un pochino più gonfia e poi qui partivi con appunto con la gamba e qui e qui andavi praticamente a creare la zona però ovviamente vai a scendere un po rispetto a come l'hai disegnato tu avrei allargato forse entrambe le gambe e non so se forse un pochettino anche questo è il momento di utilizzare lo strumento fluidifica allora andiamo a vedere attraverso lo strumento fluidifica di photoshop se possiamo fare qualcosa al riguardo no per velocizzare un po anche tutta quanta la struttura andrai a lucca ma si di solito ci andiamo tutti gli anni quindi con tutta probabilità anche quest'anno ci andremo allora vediamo un po se posso aiutarti in qualche modo attraverso questo strumento allora se io qui vado un po ad allargare ad allungare e forse qui un po scendere ottengo forse un risultato un pochino più credibile ovviamente questo strumento mi va un pochino a a rovinare un po tutto il disegno però in ogni caso penso che tu possa capire quello che quello che intendo una cosa del genere ora non considerare le braccia perché ovviamente adesso sto facendo sto facendo questo lavoro e quindi le braccia diventano tutte storte però io avrei fatto una cosa del genere sarei andato un pochino più ad allungare in questa zona qua tipo così ok facciamo lo diamo ok ecco quindi questa è un po la struttura e così era come l'avevi disegnata tu vedi sembra proprio che che nella parte bassa sia un pochino più piccolina rispetto a tutto il resto quindi magari farei attenzione giusta questo a questo a questo dettaglio per il resto comunque il disegno è molto molto bello e grazie grazie per aver partecipato andiamo avanti allora andiamo un po adesso dovrebbe essere il turno di zack andiamo a vedere quindi il disegno di zack eccolo qua allora zack ci dice un errore che salta subito forse il seno che dovrebbe stare sopra il braccio sinistro ma non saprei ho usato un'inchiostrazione grassa che ne pensi ime è pronta per essere corretta volevo farla vestita però ha voluto sfoggiare tutta la sua magnificenza stando in intimo ok allora spero un giorno di vederti dal vivo tanto io bazzico sempre luca sicuramente ci vediamo sempre quindi no problem se tu vieni allora zack io qui vedo lo stesso grosso modo lo stesso errore di sabri chan all'incirca perché poi vabbè ovviamente gli errori un po si ripeteranno eh nel corso del della giornata ok quindi mi sembra anche che anche in questo caso mi sembra che le gambe siano un pochino un po piccoline dovrebbero essere un pochino più allora tanto ti dico una cosa fai attenzione questa diciamo a questi capelli perché sotto cui hai fatto la base no per rendere tutto più credibile tu i capelli li fai cadere qua no sono dei dettagli dei particolari che però comunque fanno la differenza e per quanto riguarda il discorso dei seni hai fatto bene così come hai fatto perché se noi andiamo a considerare le braccia che vanno che sono protese in avanti ok il seno non esce fuori quindi non fa una cosa del genere a palletta ok questo potrebbe potrebbe anche farla se il diciamo se se la ragazza stesse molto sopra con con la schiena ok quindi però se tu vedi anche la reference che sta qui a fianco puoi notare che i seni non si vedono ma si vedono le braccia ok proprio perché appunto diciamo il petto è proteso in avanti le braccia si trovano appunto più avanti rispetto al petto e quindi in ogni caso le braccia si vedono sempre di più aspettate spengo l'aria condizionata che sto carrepando di caldo intendevo l'altra tetta a ok ok allora vediamo comunque in ogni caso sì forse qualcosa si poteva vedere però io non lo considero secondo me non è un proprio un errore sinceramente non la vedo come una cosa sbagliata così come l'hai fatto tu anche perché questa ragazza ha due braccia super muscolose quindi non credo che sia un problema insomma quello lì e allora fammi vedere un attimino una cosa è allora questa all'incirca le dimensioni di una testa quindi tu hai fatto ok grosso modo ci siamo quindi fino a qui va bene allora sai che non riesco a focalizzare io percepisco qualcosa che non va ma non riesco a focalizzare il che cosa forse il piede forse il piede sto cercando di di capire cosa cosa c'è che non va sì forse forse sono sono i piedi che andavano scesi un pochino di più perché perché per il resto mi sembra che le proporzioni ci siano il piede mi sembra che sia un po troppo sì che sia un po troppo piccolino e che stia un po troppo sopra ecco questo qui è il disegno così come te l'ho te l'ho mostrato io ora però non posso tornare indietro perché ho fatto la grandissima stupidaggine di disegnare direttamente sul di disegnare direttamente sul tuo sul tuo disegno quindi se vado indietro questo è photoshop quindi dopo un tot si ferma e niente comunque sia questo secondo me è la cosa che risalta di più provo a cancellare e che tu l'hai fatto qui vedi questo piede come l'hai dove l'hai fatto tu l'hai fatto praticamente così come puoi vedere un po piccolino per il resto mi sembra che che ci siamo e grazie anche a te devo devo evitare di disegnare sulla direttamente sul sul vostro disegno perché poi dopo lo butto allora michael de logo michael de logo andiamo a cercarti eccolo qua ecco il suo disegno allora che ci dice ecco il risultato del mio esercizio spero di aver fatto bene anatomia e posa ok per l'inchiostrazione cosa ne pensi un attimo torno un attimo indietro me la guardo direttamente da qua perché ormai l'immagine lì l'ho cancellata allora cosa ne penso dell'inchiostrazione fammi vedere beh mi sembra che che vada bene va bene vedo che hai comunque sia hai arricchito il tratto in alcuni punti sei andato più largo in altri punti sei andato più più fino quindi c'è una bella corposità quindi va alla grande sai che cosa fa un pochino di confusione tutti quei graffi che gli hai fatto addosso che sembrano appunto un po' troppo scarabocchiati magari li avrei fatti un pochino più mirati però insomma ripeto nell'insieme ci sta bastava che chiudevi senza salvare il disegno ragazzi sto in diretta sto in diretta sto pensando mille cose comunque allora andiamo a vedere il disegno di abbiamo detto michael de logo allora tanto creiamo un nuovo livello se no faccio lo stesso errore di prima e non succederà più allora michael io vedo un po' di problemi diciamo nelle braccia che mi sembrano un po' stortine e anche nel tuo caso proprio qui nelle cosce che mi sembrano un po' piccoline e qui non posso andare oltre qui non posso andare oltre però insomma l'avrei sicuramente allargata un pochino di più anche nel tuo caso ricordati di mettere il tallone dietro al sederino così almeno facciamo, diamo la sensazione della tridimensionalità però l'errore che insomma mi sembra un pochino più evidente sono proprio queste braccia che sono un po' tutte storte qui fai così qui fai così qui fai il bicipite poi rientri poi riesci poi rientri non lo so mi sembra qui questo gomito mamma mia come sto disegnando male scusate ragazzi però ho fatto una grandissima cavolata perché c'ho la tavoletta grafica qui però invece di guardare lo schermo qui sto guardando lo schermo qui e quindi non riesco proprio a centrare vediamo se riesco se posso piegarla un po' girarla non riesco a centrare a disegnare con la penna grafica mi va proprio per i fatti suoi se ne va per i fatti suoi allora no devo fare in modo di avere photoshop dritto qua dritto a me perché io ho due schermi uno qua e uno qua questo qui c'è la telecamera e questo qui lo utilizzo invece per tutti per tutta la parte strumentale qui c'ho la chat qui ho ho il programma OBS per poter fare appunto per poter inserire appunto e creare tutta questa struttura live e di qua c'ho photoshop però non va bene così non va proprio bene non riesco proprio a a muovere bene la la tavoletta comunque qui andrei un attimino con vai un pochino a smussare ok queste zone qua qui devi allargare sicuramente diciamo le cosce sia di qua che di qua poi abbiamo un altro errore qui qui c'è un buco perché tu devi pensare che in questo punto tu hai fatto la vita ok quindi da qui dovrebbe ripartire anche da quest'altro lato vedi e allora funzionerebbe un pochino meglio il tutto e questo gomito sta un po' troppo in alto rispetto a come appunto il tuo braccio l'avrei fatto un pochino più giù tipo qua poi da qui qui poi da qui sarei partito ok e anche le braccia io sarei andato un pochino più questo colore non va bene sarei andato un pochino ok prendiamo un blu un po' meno un po' meno tutte curve ok un po' più un po' più dritto mamma mia non ci riesco questo è un problema va bene comunque dai penso che tu mi abbia capito ok grazie Michael ricordati Michael che sulla community di Amino c'è la la sezione album e lì trovi tra i vari album divisi per categorie la sezione anatomia e lì ci sono i tutorial che ho fatto sull'anatomia magari guardali perché potrebbero tornarti utile ok andiamo avanti e vediamo il disegno di Lady Moi Lady Moi Lady Moi si dice così andiamo a vederlo ok questo bel disegno di Spider-Man niente ho voluto provarci anche io ho scelto Spider-Girl come personaggio da rappresentare spero sia di vostro gradimento buona giornata ok allora anche nel tuo caso secondo me abbiamo un problema di cosce perché questa cosa è un pochino un pochino antipatica nel senso che comunque alla fine un po' non ti fa capire molto la struttura proprio della parte bassa essendo molto così molto chiusa in se stessa vediamo eh il disegno comunque è venuto molto molto bello anche la colorazione è stupenda quindi davvero complimenti per questo allora guarda in fin dei conti mi sto rendendo conto che la la struttura diciamo a livello di di gambe di proporzioni c'è l'unica cosa anche nel tuo caso forse dovevi allungarti un pochino di più con i piedi magari farli scendere un pochino di più rispetto a come li hai fatti tu che sono veramente piccolini vedi e forse in quel modo si riusciva diciamo a a strutturare leggermente meglio la il tutto per il resto comunque il disegno è bellissimo complimenti allora andiamo avanti e arriviamo al disegno di safira che non ci dice niente ok andiamo a vederlo allora ecco il disegno di safira mi sembra che sia venuto bene il tuo disegno non vedo particolari problematiche fammi vedere un attimino così vi faccio un attimo due aspettate vedo se riesco a trovare ok questo forse funziona meglio come tipo di pennello allora 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 tu hai disegnato allora questa all'incirca è la dimensione di una testa quindi se noi andiamo qui abbiamo disegnato un'altra testa poi qui abbiamo disegnato la seconda e qui abbiamo la terza quindi ci siamo qui hai fatti i fianchi va bene forse qui l'avrei fatto vedere anche quell'altro allora per quanto riguarda invece qui io farei avrei fatto il braccio un pochino più verso l'interno in questo punto ok in questo modo e qui avrei modellato un pochino di più la spalla perché è veramente l'avrei fatta tipo così è un po' più dritta poi mi sembra allora vediamo qui queste braccia sono un po' troppo lunghette perché qui abbiamo diciamo il gomito dopodiché qui riparte l'avambraccio e arriva qui all'incirca e qui poi tu sviluppi la mano quindi c'è un po' c'è questo pezzo di troppo ok le braccia anche quest'altra è molto lunga qui va bene tu fai una cosa del genere qui abbiamo il gomito e poi di qua abbiamo l'avambraccio e qui si sviluppa la mano ok quindi anche in questo caso qui abbiamo diciamo qualche centimetro in più ok da quest'altra parte queste cosce sono veramente molto molto muscolose adesso io non so se tu volevi rappresentare proprio questo però sono veramente un sacco muscolose però e qui sarei andato un pochino più stretto anche se in ogni caso effettivamente diciamo il muscolo lì stringe molto infatti lo possiamo vedere anche dalla foto che comunque sia lì va a schiacciare no e ci sta quindi tu hai seguito anche in questo caso anche qui tu hai seguito praticamente esattamente il disegno così com'era quindi più di tanto non mi sento di dirti nella parte nella parte bassa mi sembra che in grosso modo ci siamo sono queste mani che non mi queste braccia che non mi convincono sono un po' troppo lunghette quindi magari puoi puoi lavorare lì però comunque nell'insieme il disegno è venuto bene devi solo un pochino lavorarci lì allora il prossimo disegnatore è Paola Paola Mola andiamo a vedere il suo disegno eccolo qua il disegno di Paola facciamolo vedere allora ci dice Paola eserciste numero uno sono nuovo nella community ho provato a fare questo benvenuta Paola allora allora Paola andiamo a vedere il tuo disegno cerchiamo di capire un attimino come l'hai sviluppato allora partiamo dalla parte alta ok allora Paola guarda qui c'è in questo punto qua un errore perché questa questa spalla è un pochino troppo appuntita andrebbe un attimino smorzata in questo modo ok quindi tutta questa zona andrebbe eliminata andrebbe smorzata un po' così da quest'altro lato il collo dovrebbe fare una cosa del genere quindi essere un po' meno schematico ok tu hai fatto un collo molto schematico scende e poi parte lateralmente invece qui c'è questo muscolo no ok muscolo del trapezio che va a finire proprio qui sulla spalla e quindi avrei fatto questo lavoro ok ora tu qui hai fatto i due seni che sporgono però sinceramente io questo seno l'avrei coperto in questo modo quindi avrei mantenuto il braccio in avanti e da quest'altra parte ci potrebbe pure stare come appunto diceva anche Zack ci potrebbe pure stare da quest'altro lato però ci potrebbe stare anche in virtù di come tu hai disegnato questo questo personaggio che è un po' diverso rispetto alla posa della ragazza questa reference perché diciamo questa posa appunto in questa posa la ragazza scende quindi si si protrae in avanti e con le mani raggiunge il pavimento in questo caso tu invece non l'hai fatto perché la ragazza che hai disegnato tu sta un pochino più tirata su e quindi ci potrebbe pure stare che qui si vede il seno in ogni caso poi tu qui hai fatto anche le diciamo questi i tacchi a spillo e quindi e quindi così insomma ci sta ci sta che stia un pochino più tirata su rispetto rispetto al resto ultima cosa che ti dico è che io qui avrei fatto il sederino l'avrei fatto un pochino più in basso un po' qua ok rispetto a dove l'hai fatto tu ok poi per il resto insomma mi sembra che ci siamo poi nel tempo imparerai anche a caratterizzare un pochino di più no? ci vuole anche questa capacità perché questo diciamo questo volto è poco caratterizzato ok? però non ti preoccupare perché c'è tempo nel tempo vedrai che che imparerai anche a fare delle caratterizzazioni un pochino più che poi diventerà appunto il tuo stile un po' più mirate andiamo avanti andiamo avanti e vediamo il disegno di Yurika cerchiamolo cerchiamolo eccolo qua Yurika molto bello allora ci dice ho voluto prendere come personaggio Electra personaggio della Marvel molto bello molto bello i capelli sono molto belli davvero sembrano veri quindi complimenti davvero e anche l'inchiostrazione è pulita e il tratto è modulato in maniera molto molto piacevole anche a livello anatomico mi sembra che ci siamo alla grande hai saputo disegnare molto bene questo questo personaggio mi piace la cosa che hai fatto qui questo stacco insomma dei seni questo seno che viene appunto tirato dal braccio spinto verso l'interno e per poterlo evidenziare ci hai messo in mezzo i capelli e questa cosa ha formato la palletta tipica e questa è molto è una bella idea è una bella idea complimenti davvero vediamo mi sembra che nell'insieme ci siamo voglio vedere solo una cosa ecco amore mio che non si è ricordata che oggi c'è ora live ehi guarda sto in live ti ricordi che oggi ho l'esercizio ciao ciao scusate allora quindi noi qui abbiamo una testa ma si ci siamo ci siamo questo disegno è fatto bene e secondo me è anche proporzionato ci siamo ci siamo alla grande forse anche nel tuo caso i piedi sono un po' piccolini andiamo un po' se li facessi un pochino più lunghi cosa succederebbe un pochino ma poca roba si forse questo è un po' se proprio dovessi andare a cercare il pelo nell'uovo come si suol dire andrei a vedere proprio questa cosa qua forse perché per il resto è veramente molto bello complimenti poi ci saluti anche Serena e adesso forse si collega perché tanto sta tornando dal lavoro quindi probabilmente adesso si collegherà allora il prossimo disegno è di bannicola eccoci qua ciao ecco il mio disegno per il compito della posa spero che sia venuto bene sto facendo un nuovo sì uomo ma non so come farlo quindi sto provando vari outfit se penso agli inizi era un po' così anche per le loli però come al solito non so cosa farti correggere quindi sono nelle tue mani mio oscuro signore addirittura allora guarda bannicola tu hai disegnato cioè la parte bassa di questo personaggio è un po' animalesca mi sembra di aver capito perché le zampe strane ok quindi allora io ti faccio una correzione come se fosse diciamo come se questo personaggio avesse le proporzioni di un essere umano normale ok e qui in questo caso saresti dovuto andare un pochino più giù saresti andato un pochino più giù ti disegnavi tutta la struttura delle due cosce e poi successivamente ti saresti appunto trovato un po' più facilitato nel disegnare il resto questa è una questa è una e questa è due ok quindi qui abbiamo praticamente tutto questo spazio dove dovevi allungare un pochino di più la coscia e anche da quest'altra parte ok così almeno diciamo la struttura era diciamo era un po' più simile alla posa della reference che vi ho dato ok poi per il resto comunque sia bravo che stai cominciando a disegnare anche personaggi maschili perché così insomma fa sempre bene imparare sotto questo aspetto anche variando il nostro disegno allora correggo i vostri disegni ho sbagliato sono tornato indietro quindi andiamo a cercare bannicola ok poi il prossimo disegno è quello di BakaChan 7 eccolo qua il disegno di BakaChan chi si ricorda la mia ossia Yano le ho modificato il vestiario perché quello di prima iniziava a stufarmi ho voluto esercitarmi anche io su questa posa cambiandola un po' spero vi piaccia ok è fatto bene a cambiarla perché comunque sia fin di conti l'avevo detto nel tutorial della reference alla fine diciamo le reference servono come spunto no? però non è detto che dobbiamo poi disegnare tale e quale quello spunto possiamo anche fare delle variazioni allora vediamo un po' che cosa posso dirti al riguardo allora 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 la cosa che mi salta subito all'occhio è che questo piede è più piccolo dell'altro è molto più piccolo e infatti qui insomma sarebbe stato meglio ingrandirlo un po' quindi farlo delle stesse dimensioni dell'altro ci stava e poi vediamo sto facendo un tentativo allora anche nel tuo caso ti dico di fare attenzione magari qui è il caso di togliere insomma il 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 tallone ma di metterci il sederino perché il tallone finisce poi dietro no? e non mi convince molto questo lato qua questo lato qua vedi? perché per come hai disegnato diciamo questa gamba sembra quasi storta in questo punto qua quindi io l'avrei fatto appunto questa zona qui quindi questa zona qui che tu hai disegnato l'avrei fatta più giù cioè avrei fatto una cosa del genere avrei mostrato un po' di più la coscia e poi qui avrei sviluppato un pochino più in basso il tutta quest'altra zona della gamba e qui come ti avevo detto insomma il 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 piede un pochino più lungo perché in questo modo secondo me funziona funziona di più per come l'hai disegnato tu sembra un po' troppo forzata quel 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 diciamo quella quella gamba che viene in avanti c'è qualcosa che non mi torna ok quindi magari l'avrei fatta un pochino diversa proprio per quello sembri un po' giù no no non sono un po' giù sono sono un po' concentrato ecco tutto qui ok perché non ho avuto modo di studiarli i vostri disegni per capire in anticipo quali erano le le problematiche insomma quindi prepararmi un attimino quindi quando è così sono un po' teso perché ovviamente la figuraccia è dietro l'angolo sempre no in diretta comunque va bene Nightfire Shooter andiamo a vedere il tuo disegno eccolo qua molto bello anche questo disegno Nightfire non so che dire ok va bene te lo dico io il disegno è molto bello molto bello tu te la sei giocata un po' anche con questo vestito con questo outfit che va a coprire insomma la parte la parte bassa del sedere del tallone del piede eccetera quindi ci sta ci sta allora vediamo un attimo allora questa coscia secondo me è un pochino un pochino troppo lunga andava un attimino ristretta quindi nel tuo caso rispetto ai tuoi colleghi andava un attimino più 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 ristretta per il resto questa zona sotto invece secondo me va bene e vediamo da quest'altro lato eh anche qui hai fatto i fianchi bravo da quest'altra parte avrei gonfiato un pochino di più in questa zona alta perché l'hai fatta un po' schiacciata però ma per il resto mi sembra che le cose vadano abbastanza bene quindi l'errore principale lo vedo lo vedo proprio qua su questo su questo punto qui questa questa coscia che mi sembra un po' troppo che butta in avanti è un po' troppo allungata per il resto comunque è molto carino anche anche a te complimenti per la per la struttura del disegno del che è davvero molto molto carina potresti correggere il mio l'ho postato ieri ma l'ho messo nella categoria giusta solo pochi minuti fa quindi nel mio post si legge 22 minuti fa non so se mi sono spiegato spiegata infatti l'ho postato ieri solo che nel post si legge che l'ho postato 20 minuti fa ho capito allora Sara c'è un problema perché come vedi io non mi trovo su Amino io li ho scaricati preventivamente e li ho portati sul sul mio computer ok quindi vediamo un attimino se sul finale ce la ce la faccio vediamo poi vediamo anche che ora si fa perché i disegni sono tanti capito intanto metto un attimo il silenziatore qua perché se il nostro cellulare rompe ricordatevi sempre di postarlo nella categoria giusta e dentro il termine di scadenza giusti sono solo due cose vi dovete ricordare ma dovete farlo ragazzi perché se no mi mettete in difficoltà perché devo appunto archiviare i vostri disegni come vedete li ho trasferiti sul sul programma quindi tutta una serie di cose insomma allora ogni 77 ogni 77 andiamo a vedere il tuo disegno ed eccolo qui ogni allora ci dice anche io ho fatto compiti per questo corso di disegno purtroppo non sono stato al top causa influenza e ad essere sincero il lavoro non mi convince tantissimo ma ne approfitto per sfruttare la correzione ok allora anzitutto cerchiamo di fare una struttura esterna per vedere se c'è qualche eventuale errore la prima cosa che mi risalta all'occhio è che secondo me questa zona qua è un po' troppo schiacciata perché qui hai a disegnare praticamente la testa e non c'è volume nei capelli quindi sopra alla testa dovevi disegnare un pochino di volume in questo modo no devi fare un po' di volume in più ok questo è un primo dettaglio che ti può essere utile allora andiamo a vedere andiamo a fare proprio il disegno del personaggio tu qui mi disegni le spalle proprio a livello di stickman vediamo poi qui andiamo a disegnare il braccio forse qui è un pochino troppo lungo avambraccio ma va bene vediamo da quest'altra parte braccio tu l'hai fatto qua la piega io l'avrei fatta un pochino più sopra rispetto dove l'hai fatta tu e qui avrei fatto le mani che finivano leggermente praticamente finivano all'altezza del dei guanti in questo punto qua secondo me quindi tutta questa zona delle dita secondo me andava un attimino cancellata poi qui abbiamo una testa due teste e all'incirca dovevi scendere con il sederino qui quindi anche il sederino è un pochino un pochino troppo sopra ovviamente anche nella parte alta qui tu fai i fianchi li fai partire qui io le avrei fatte partire un pochino più giù e poi qui qui va bene questa è la coscia e poi per il resto mi sembra che per il resto mi sembra che ci siamo quindi diciamo le due cose che saltano anzi le tre cose che saltano subito all'occhio sono queste prima di tutto aspetta cancello così ti faccio rivedere allora prima di tutto un errore qui quindi non hai creato volume nei capelli secondo le braccia che devono essere un pochino un pilino più corte rispetto a come le hai fatte tu terzo la zona del sederino che andrebbe scesa un pochino di più ok andrebbe fatta all'incirca qua su questo punto qui questi sono un po' gli errori principali a livello di proporzioni per quanto riguarda invece il personaggio è molto carino sviluppalo perché è molto carino questo personaggio e grazie anche a te ciao Mary ci vediamo alla prossima se ci sei mercoledì alla live facciamo un'altra live io mangio la pizza e beato te allora il prossimo disegno è di Mary 97 spero che non era quella Mary che è andata via in questo momento allora sono risuscitata dal periodo sessioni di esami non ancora concluso ma ho trovato tempo solo adesso di rispolverare tavoletta grafica data la mia la colpa date la colpa Kingdom Hearts 3 comunque bando alle ciance ecco il mio disegno finito il personaggio completamente inventato la posa era complessa e ho sperimentato con la colorazione io non sono soddisfatta ma ci ho provato allora andiamo a vedere come stiamo messi con il disegno per vedere insomma se ci sono delle problematiche anzitutto ti dico complimenti per la caratterizzazione che hai dato Mary perché mi piace un sacco quindi aspetta cambio colore quindi questa questa caratterizzazione è formidabile mi piace davvero tanto non è non è per niente banale quindi veramente complimenti andiamo a vedere il resto come come sei andata noi qui abbiamo le spalle va bene qui avrei fatto un pelino di più in alto diciamo tutta la zona del trapezio e delle spalle l'hai fatto secondo me il collo è un po' troppo lunghetto andava un attimino tirato su e poi vediamo allora qui è disegnato il collo quindi noi qui abbiamo le dimensioni di una testa due tre qui sarei andato un pelino più giù con il il sederino proprio poco poco però ci sarei andato poi qui in questa zona qui quindi alla fine della seconda diciamo della dimensione della seconda testa noi qui abbiamo il bacino l'inizio quindi della zona del bacino quindi i fianchi quindi qui sarei andato un pochino più così e su questo punto avrei strutturato ovviamente la coscia l'avrei fatta in questo modo un pochino più piccolina rispetto a come l'hai fatta tu anche in questo punto mi sembra che questa coscia sia un po' troppo come dire rachitica il termine è quello là un po' rinsecchita invece andrebbe un attimino gonfiata anche perché in base a come la posa del personaggio proprio va a schiacciare quindi dovrebbe essere più gonfia no? per quanto riguarda le braccia vediamo un po' se ci sono degli errori qui abbiamo il braccio qui l'avambraccio e le mani andavano fatte qua su questa zona qua ok? quindi le avrei fatte un pochino più più corte rispetto a come le hai fatte tu qui abbiamo il braccio qui sei andato un po' più dritto con questa curva che è un po' troppo un pochino sbilenca però non ti preoccupare e qui abbiamo l'altro braccio quindi quest'altro braccio sinistro secondo me va bene quello destro a mio avviso un po' troppo lunghetto e infine infine ti dico di fare attenzione al piede perché ovviamente qui scompare invece qua il piede ha un suo volumeno che andava fatto qui grosso modo in questo modo grosso modo in questo modo bellissimo quindi ricapitolando ricapitolandolo gli errori più evidenti quelli che mi sembra siano più evidenti sono qua dovevi scendere leggermente di più con il sederino queste cosce che sono un po' rachitiche in base al disegno che hai fatto sia qua che qua quando invece dovrebbero essere più belle più belle gonfie e anche anche su questa zona vedi tutta questa zona qui che hai fatto sono un po' sembra rinsecchite e infine questo braccio che a mio avviso è un po' troppo lunghetto e doveva finire un pochino prima ok ha anche questi piedi che ovviamente sono un po' piccolini le mani disegnate in questo modo già le adoro quindi se le continui a svilupparle non sarebbe una cosa male comunque grazie mille per aver partecipato andiamo a vedere adesso il disegno di black lion eccolo qua andiamo a cercarlo black lion ho provato varie volte a farla ma non mi veniva bene alla fine ho scelto la migliore fra tutte e ve la mostro ho ancora tantissima strada da fare me ne rendo conto grazie a questi esercizi ma anche grazie a questi esercizi cerco di migliorare e fare cose nuove esatto alla fine la bellezza diciamo l'utilità di questi esercizi sta nel fatto che uscite un po' dalla vostra comfort zone eh perché tutti noi disegnatori abbiamo una comfort zone cioè abbiamo un determinato una determinata tipologia di disegni di personaggi di struttura proprio del disegno di posa che sappiamo fare e quindi ci discostiamo proprio poco poco di qua poco poco di là ma alla fine rimaniamo nella nostra comfort zone poi arrivano questi esercizi che invece ci stravolgono completamente perché io vi do un esercizio da fare quindi se voi dovete dovete fare quello che vi dice un'altra persona e allora lì nasce la difficoltà ma come giustamente hai detto tu proprio grazie alla difficoltà poi c'è anche il miglioramento e la crescita altrimenti se non si esce mai dalla comfort zone si faranno sempre i soliti disegni e non e non ci sarà mai crescita ok comunque allora eh black lion ti dico che purtroppo è venuta un po' sgranata questa questa foto però va bene allora mi piace come l'utilizzo che fai con la matita delle delle ombre mi piace davvero tanto quindi insomma questo è venuto veramente molto molto bene mi piace anche il volto di questa ragazza è davvero molto bello un po' materno eh se così possiamo dire molto bello questo sguardo quindi complimenti andiamo a vedere adesso a livello anatomico cioè a livello di proporzioni se ci siamo ok e anche anatomico ovviamente allora per quanto riguarda la zona alta mi sembra che ci siamo alla grande anche la posizione delle spalle è fatta bene andiamo avanti allora qui è il punto giusto dove poter andare a disegnare il sederino e però tu qui hai fatto appunto questa copertura quindi non si vede molto bene dove tu hai hai posizionato la il sedere complimenti anche per la caratterizzazione ci sta è carina allora guarda che cosa posso dirti al riguardo non ci sono tanti errori quello diciamo gli errori più evidenti sono diciamo risiedono un po' nei piedi che sono un po' piccolini rispetto al personaggio che hai disegnato che andrebbero un po' allungati e no questo no questo qui va bene quest'altro più che altro questo qui e poi per il resto guarda le mani che sono un po' disegnate un po' così perché per il resto non mi sembra che sia fatto male questo seno secondo me andrebbe un attimino sconfiato un po' rispetto a come l'hai fatto tu va un pochino troppo verso l'esterno e non ha non serve perché anche se avesse insomma questa ragazza dei bei seni prosperosi in ogni caso sembra proprio che il seno lì in quel punto non lo so si stacca come posso dirti guarda ti faccio rivedere vedi quindi ricapitolando gli errori principali li ho visti appunto su questo seno come ti ho detto questo piede che è un po' troppo piccolino rispetto a come hai disegnato tutto il resto e queste mani che sono un pochino come dire un po' troppo stilizzate rispetto al tipo di disegno che hai fatto tu che invece è più cioè è molto meno stilizzato io mi diverto un sacco con le pose complesse per me il disegno è una continua sfida amo le sfide di disegno per mercoledì in una pagina sto inserendo 12 oh sì alla faccia Luisa ciao Luisa finalmente sono riuscita ad entrare su Amino adesso devo capire come può stare il disegno per il contest allora molto semplice a parte il fatto che ho fatto un tutorial e lo trovi lì su Amino proprio pinnato in alto c'è scritto tutorial Amino una cosa del genere come funziona Amino se ti guardi quel video ti spiega un po' tutte quante le funzioni e comunque diciamo le uniche cose che devi ricordarti appunto è di scegliere una gilda una delle quattro gilde e postare il tuo disegno all'interno di una di quelle categorie perché disegni che finiscono in gioco sono proprio quelli ok dice come si fa a scegliere la categoria e ti devi guardare il video Luisa o se no chiedi consiglio ai ragazzi qui in chat ok andiamo avanti cascal se il mondo lo finirò anche se sei mi abbozzato brava Ludan è arrivato il tuo momento ci ho provato ci dice andiamo a vedere il tuo disegno Ludan allora Ludan abbiamo un paio di problemini negli arti ok quindi dovresti rivedere un attimino quelli perché sia questi che questi sono sia anche le mani i piedi sono diciamo non fatti bene a livello anatomico e un po' sproporzionati ok invece il torso è fatto bene cioè le dimensioni del torso ci sono quindi dovresti lavorare un po' di più su queste qua su questi arti che insomma non è facile è difficile poi questa posa insomma non aiuta molto perché allora adesso cancello e ti faccio vedere un attimino così ti fai un'idea allora per quanto riguarda le braccia anzitutto dovresti confiarle un pochino di più le hai fatte davvero un po' troppo striminzite e le hai fatte un po' troppo lunghe perché perché tu devi considerare dal collo le dimensioni della testa ok quindi le dimensioni della testa si trovano della prima testa vanno a determinare il petto ok quindi lo stacco del petto all'incirca poi dopo sono sempre da prendere con le pinze questi calcoli che sono dei calcoli che servono semplicemente per poter aiutare l'occhio a individuare subito le posizioni poi nel corso del tempo affinerai queste capacità e insomma tutto questo andrà non servirà più ok poi per quanto partendo da qui quindi partendo dal petto vai a disegnare le dimensioni di un'altra testa e noi qui abbiamo l'ombelico ok al centro tra questa seconda testa ok abbiamo l'attaccatura quindi abbiamo il gomito ok quindi finisce il braccio e inizia l'avambraccio quindi all'incirca in questo punto tu fai il braccio poi qui fa una curva non fa uno spigolo no qui fa una curva e poi qui abbiamo il muscolo del trapezio che va a finire sul collo no e quindi fa questa cosa qua ok poi da qui quindi dal dal braccio tu riparti con l'avambraccio e arrivi grosso modo qua quindi come puoi vedere tu stai parecchio più giù rispetto al diciamo al disegno al disegno che che doveva essere perché da qui poi dovevi andare a disegnare invece la mano ok in questo punto qua tu disegnavi la mano e va bene le mani che hai disegnato sono veramente piccoline perché andrebbero disegnate così vedi le dimensioni come sono più più grandi quindi stessa cosa qua fai così e poi qui vai a disegnare le mani che sono più grandi di come le hai fatte tu poi tornando al discorso del diciamo del torso qui abbiamo detto che inizia l'ombelico e da questo punto sempre grosso modo inizia diciamo il bacino quindi i fianchi quindi tu hai fatto bene a livello probabilmente a livello inconscio tu sai che questa zona funziona in questo modo perché l'hai fatta bene poi ovviamente parte da qui parte la coscia anche le cosce devono essere un pochino più gonfie no? rispetto a come a come le hai disegnate tu il consiglio che ti do appunto è di disegnare prima una struttura che possa aiutarti no? esattamente come sto facendo io ti crei tutta una struttura e poi dopo sopra quella struttura tu vai a disegnare tutto il resto ecco vedi io non ho disegnato tutta la gamba io ho disegnato solo le cosce però in questo modo io ho capito a livello schematico dove andrebbero posizionate ok? perché altrimenti se disegnavo tutta la gamba dalla coscia fino ai piedi probabilmente mi sarei trovato in difficoltà invece in questo modo ho potuto individuare la posizione diciamo di questo elemento poi qui vai a disegnare il piede che è un po' piccolino e quindi andrebbe ingrandito un pochettino un pochettino ok? capito? è un po' questo il ragionamento da fare quindi il consiglio che ti do è quello di andare a creare uno schema prima di partire subito col disegnare ok? quindi senza ti ho detto tante cose ovviamente adesso per gradi piano piano ci arriverai però le cose principali che ti dico sono gli arti falli un pochino più gonfi ok? questa è una cosa che salta subito all'occhio e questa quindi vedi questo è troppo rinsecchito 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 ok? e piedi e mani devi farli più grandi ok? comincia comincia da qua poi piano piano ripeto piano piano a forza di disegnare migliorerai non ti scoraggiare e vai avanti come un treno l'Udan piano piano le cose migliorano Giovanni Fix andiamo a vedere il tuo disegno ci dice poco tempo allora questo che cos'è? un drago che cos'è? un drago un dragonide che cos'è? allora la testa non la prendo in considerazione perché è un drago quindi non non la guardo neanche allora Giovanni ci sono un po' di cose da analizzare allora anzitutto ci sono delle delle linee dei tratteggi che anche se magari nel disegno originale ci sono non è detto che noi dobbiamo reinserirli sul nostro disegno mi spiego determinati disegni molto stilizzati così come così come l'hai fatto tu dove hai fatto praticamente solo il tratto quindi solo la lineart e si è fatto un pochino di ombra ma un po' buttata lì non c'è dettaglio in quello che tu hai fatto quindi se non c'è dettaglio non è necessario andare a inserire a determinati elementi che come per esempio questi questo questo queste strisce questa che nel diciamo nel disegno originale ci sta però non ci sta cioè nel disegno originale scusa nella foto nella foto ci sta però non ci sta dal momento in cui tu disegni crei un disegno così stilizzato così privo di di qualsiasi dettaglio ad esempio tu qui il petto non l'hai proprio disegnato tutta questa zona qui è bianca non hai fatto nulla ok quando invece qui essendo un uomo drago insomma potevi sbizzarrirti inventarti che ne so squame quello che ti pare potevi proprio esagerare fare proprio quello che volevi non hai disegnato nulla quindi hai fatto proprio un disegno super stilizzato e questa cosa appunto non giustifica questi tratti anche qui vedi questa questa linea messa così ok io ho capito che tu volevi disegnare qui l'osso però messo così buttato così sul nulla non ci sta quindi a sto punto è meglio che non disegni niente di questi dettagli e lo lasci così servono più muscoli qui ci dice Riccardo questo dipende da quello che voleva disegnare lui se voleva disegnare una cosa più muscolosa o meno insomma tutta questa zona qui deve essere un attimino rivista perché è molto raffazzonata ok quindi tutti mani piedi considera Giovanni che queste sono mani e piedi sono gli elementi più complicati e ci si arriva proprio per ultimo a imparare a disegnarli e anche molto spesso anche i migliori artisti insomma hanno bisogno di vedere delle reference per poter disegnare le mani perché sono veramente complicate da disegnare questa è una cosa normalissima quindi non ti scoraggiare e vai tranquillo dovresti un attimino vedere ti dico anche alcune altre cose che devi tenere un attimino in considerazione però intanto fai attenzione a queste prime cose che ti ho detto allora i polsi sono un po' troppo larghi vedi qui tu il polso l'hai fatto così stile braccio di ferro quindi l'avambraccio funziona in questo modo partiamo dalla spalla partiamo dal braccio questa è la spalla poi abbiamo il braccio quindi si va a gonfiare un pochino poi ovviamente più muscolo vuoi creare più si gonfia perché qui c'è il bicipite che va a gonfiare visto frontalmente ovviamente poi qui abbiamo lo stacco e poi qui abbiamo l'avambraccio a differenza del braccio l'avambraccio si allarga molto in alto non si allarga grosso modo al centro come succede con il braccio nell'avambraccio si allarga in alto e poi va a stringere fa questo gioco qua quindi come puoi vedere la differenza sta nel fatto che l'avambraccio si allarga qua non si allarga al centro ok perché se si allargasse al centro così come l'hai fatto tu verrebbero gli avambracci di braccio di ferro perché tu fai appunto fai questa una sorta di ellisse e viene fuori una cosa del genere invece no si allarga nella parte alta e poi va a stringere in maniera naturale quindi noi abbiamo i polsi molto più stretti rispetto alla zona più larga dell'avambraccio ok e poi da qui tu parti tu vai a disegnare la mano ok questa è un po' la struttura quindi fai attenzione a questo dettaglio e poi piano piano tanto comincia con le mani scusa con le braccia poi piano 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 andrai a migliorarti ok grazie quando finirà la live la live finisce vorrei finire tutti i disegni perché ne sono rimasti pochi sono rimasti 1 2 3 4 5 6 7 ne sono rimasti 8 quindi sono le 8 e 20 io li finirei tutti così almeno la chiudiamo qui allora andiamo ad Alex Cast è arrivato il tuo momento Alex eccolo qua il tuo disegno e ci dice lui è Shin il protagonista di una storia che ho inventato e colgo l'occasione del contest per mostrarvelo cosa ne pensate? è molto bello allora Alex io credo proprio che in questo caso non debba darti nessun consiglio perché questo disegno è fatto molto bene a parte il fatto che la struttura è molto ben fatta a livello anatomico ci siamo alla grande e vedete Alex ha disegnato i piedi molto più grandi rispetto a tanti appunto a tanti piedi che ho visto in questa in questa live ok? proprio perché insomma il rischio il problema grosso quando dobbiamo andare a disegnare degli elementi così appiccicati è che ci sfuggono poi a un certo punto partono le proporzioni non riusciamo più a seguirle invece in questo caso Alex è stato molto bravo l'unica cosa forse guarda in questo punto sarei andato un pochino a stringere un pochino prima ma è proprio un piccolissimo dettaglio proprio una sciocchezzuola mi piace anche la caratterizzazione di questo di questo guerriero insomma ci sta molto carina complimenti quindi non ho da dirti niente Alex bravo ti dico solo bravo allora andiamo avanti Antonio Strano Antonio Strano ecco il tuo disegno anche a te faccio i complimenti Antonio perché è davvero ben ben strutturato qui ci ha disegnato anche uno sfondo molto molto bello davvero complimenti allora questa è la sorella di Yime allora vediamo che cosa posso dirti allora mi piace molto la parte alta mi piace molto la caratterizzazione questo volto è fatto benissimo mi piace molto anche tutta questa struttura qua complimenti adesso vediamo scendendo se ci sono dei problemi allora il primo problema che ti dico è che l'attaccatura quindi il gomito l'attaccatura tra il braccio e l'avambraccio va un pochino più su tu l'hai disegnata qua e andrebbe invece in questo punto qua ok poi da qui riparti e vai a disegnare l'avambraccio come l'hai disegnata sta mano ok ok ci sta ci sta è un po' piccolina però è disegnata bene ed è piuttosto complicato diciamo la mano che è disegnata insomma è parecchio strana insomma come posizione però ci sta quindi qui semplicemente dovevi andare un attimino aspetta però vediamo un attimo una cosa no forse aspetta guarda forse dovevi salire un po' più su con la mano la mano l'avresti dovuta fare qui e quindi la spada di riflesso qui un po' più su ok vediamo da quest'altro lato anche qui dovevi disegnare all'incirca su questo punto l'attacco e poi partire con l'altro che finiva all'incirca qui e tu qui dovevi disegnare l'altra mano grosso modo dovevi fare una cosa del genere quindi a questo punto la spada doveva andare più di qua ok su questo punto così vediamo un po' il resto allora questa zona qua è un po' troppo schiacciata perché tu qui mi vai a disegnare vedi questa zona tu l'hai disegnata qua ok è un pochino c'ha una vita un pochino troppo stretta andrebbe un attimino risistemata perché perché tu qui mi fai il qui c'è diciamo posizionata la schiena all'incirca quindi tu qui vai e esci fuori e qui abbiamo appunto lo sviluppo del fianco che poi si struttura in questa zona qua e qui grosso modo ci siamo però appunto questo qui a un certo punto scende qua un po' più giù ok quindi andiamo a ricapitolare un po' tutte quante le faccende allora fai attenzione alle braccia perché hai disegnato le braccia un po' troppo lunghe e quindi poi dopo tutto se n'è andato un po' troppo giù e fai attenzione ai fianchi quindi diciamo alla vita perché in questo punto è troppo troppo stretta e anche qui in questa zona qua la gamba deve scendere un po' più in giù deve essere un po' deve stare un po' più qua dovrebbe finire qua su questo punto rispetto a come l'hai disegnata tu per il resto comunque il disegno è molto bello e questa posa è molto è ancora più difficile perché comunque sia con queste braccia con queste mani tutte girate in quel modo a due mani sinistre e vediamo un po' scusa allora fammi vedere sì hai ragione hai ragione ha ragione hurricane ha ragione perché qui in questo punto il pollice va di qua deve essere fatto di qua ha ragione bravo me l'ha proprio sfuggito andrebbe fatto in quest'altro verso quindi anche questo anche questo è un errore però nell'insieme il disegno è molto bello Antonio è molto bello ci sono dei piccoli errori da da verificare però per il resto ci siamo allora francesco nocera è il prossimo andiamo a vedere eccolo qua ecco ecco il mio esercizio fatto senza voglia ma volevo farlo ok allora allora francesco fai attenzione a questi tratteggi che fai perché sono non fare mai una cosa del genere ok quando devi fare un'ombra non fare mai una cosa del genere ok perché questo qua è uno scarabocchio non è un tratteggio non lo dico con cattiveria però tutta questa zona qui non va bene tutte queste questi diciamo queste ombre che hai dato non vanno bene se devi farle così appunto perché tu come hai detto non ci avevi voglia non lo fare cioè non fare le ombre fai solo il tratto senza dover disegnare tutte queste zone qua perché queste vanno ad indebolire il tuo disegno ok che ha del potenziale però effettivamente a colpo d'occhio se io vedo tutte queste scarabocchi mi prende vedi cioè tutte queste cose così dico ma no non è fatto bene quindi fai attenzione a questi dettagli perché insomma non sono dettagli da poco per quanto riguarda il tuo disegno allora guarda ti dico adesso cominciò ad accelerare un po' perché sono già le 8 e mezza allora questa zona qua è fatta bene le braccia sono fatte bene a livello anatomico e anche l'anatomia diciamo a livello di proporzioni delle mani sono fatte bene quindi ci sta per quanto riguarda qui io avrei riempito questo buco ok qui c'è fatto praticamente un un abito che va a coprire un po' tutta quanta la zona e l'unica cosa forse di qua sarei andato un pochino più un pochino più a gonfiare per il resto mi sembra che comunque ci siamo come come il disegno ecco l'unico particolare Francesco se non hai tempo o non hai voglia di fare di fare il disegno non ti sconsiglio vivamente di fare appunto queste ombre così scarabocchiate perché il disegno perde va proprio giù c'è proprio un tragollo del disegno ok è un peccato è un peccato davvero ok andiamo a vedere questi ultimi disegni adesso saltano un po' tutti gli schemi tanto sono rimasti pochi cominciamo con questo di Kevin allora Kevin complimenti per la struttura proprio in generale del disegno è bella molto bella e penso che riceverai un sacco di like perché insomma il colpo d'occhio ci sta alla grande anche come hai colorato tutto bello bello questa è la principessa mononoke per quanto riguarda il disegno qui ci siamo grossomodo ci siamo l'unico problema è che questo piede è un po' piccolino rispetto all'altro quindi andava un attimino confiato un pochino di più ok allungato un po' di più perché rispetto a quest'altro è un po' troppo piccolo il piede allora altro errore che sto notando ecco qui il braccio doveva finire su questo punto mentre tu l'hai fatto finire qua ok quindi anche questo è un errore e ovviamente poi tutto il resto ne consegue la mano scende fino a qua ok quindi anche qui ti dico di fare attenzione anche a te dico la stessa cosa che ho detto al tuo collega per poter individuare diciamo l'attacco la zona del gomito tu fai il disegno del petto ok poi la seconda parte arrivi fino all'ombelico e all'incirca al centro ti vai a piazzare quest'attacco ok in ogni caso il disegno è molto bello è di impatto devo dire c'è solo questo piccolo ci sono questi piccoli dettagli da analizzare ma nell'insieme ci sta Steve andiamo a vedere il tuo disegno allora allora Steve allora ascolta qui dovresti il collo è un po' troppo netto cioè questo angolo così non va bene dovresti un attimino allungarlo da questa parte quindi fare una sorta di curva quindi accompagnarlo un pochetto e così già ha più senso queste spalle dovrebbero scendere cioè dovrebbero un attimino chiudere un po' prima perché sono un po' troppo vanno un po' troppo verso l'alto quindi andrebbero un attimino chiuse un pochino prima e anche a te dico di fare attenzione perché tutti questi arti finali quindi mani e piedi sono piccolini rispetto al disegno che hai fatto quindi anche a te dico di fare attenzione al riguardo e un'ultima cosa questa gamba rispetto al torso che hai disegnato dovrebbe essere un pochino più grande ok dovrebbe essere un pochino più grande in questo modo qui ci fai il piede e questo vedi in questo punto qua è un po' troppo piccolina rispetto al torso perché tu comunque hai fatto un bel cristone come si sol dire no? guarda quanto guarda che che torso che ha bello bello possente quindi in quel caso appunto anche la parte bassa deve essere corrispondente ok e grazie Keltrox andiamo a vedere il tuo disegno anche nel tuo caso ci sono dei problemi nella parte bassa quindi tutti mani e piedi sono troppo piccolini non disegnare queste due strisce qua perché non hanno molto senso disegnate così non hanno molto senso andava bene quest'ombra che hai disegnato quella andava già più che bene bravo perché lo stacco tra il braccio e l'avambraccio le hai fatti bene però nel tuo caso l'avambraccio è troppo lungo andava doveva finire un po' prima doveva finire all'incirca qua ok e infine fai attenzione perché qui noi abbiamo praticamente una zona un po' troppo ristretta un po' troppo tutto schiacciato qui sotto ok quindi andava un attimino gonfiato un po' di più questi sono un po' i dettagli per il resto comunque sia ci siamo ultimi due no questo questo non è niente questo era quello che avevo fatto io ho Simone Pistidda quindi andiamo a vedere quest'ultimo disegno grazie mille per i complimenti e per i consigli grazie a te grazie a voi ragazzi poi questo è l'inizio ok ho avuto un po' di problemi come sempre insomma poi nel tempo ci miglioreremo come in tutte le cose però io come sapete mi butto sempre o la va o la spacca come si suol dire no perché poi dopo se non inizi mai se aspetti il momento giusto per poter fare le cose fatte bene poi alla fine non fai mai niente invece io mi butto e si parte poi dopo nel corso del mese vedrete che già a marzo sarà strutturato tutto molto meglio ok allora andiamo a vedere il disegno di abbiamo detto Simone allora Simone mi piace molto la struttura di cioè come hai caratterizzato il tuo personaggio è molto carina però abbiamo alcuni problemi con le braccia e con le gambe anche nel tuo caso sono un po' troppo strette un po' troppo rinsecchite e quindi andavano un attimino confiate un po' di più ok anche nel tuo caso sono un po' troppo allungate perché poi l'incognita il problema il problema stava proprio nel fatto che appunto dovendo toccare il pavimento poi c'era il rischio che uno se non ci arrivavi vabbè le allungo un po' di più e via e faccio in modo che ci arrivi invece ecco andava fatta una cosa del genere e vediamo un po' da quest'altra parte fa un po' troppo una curva strana vedi sembra quasi che non ha l'osso vedi come fa che tipo di curva fa invece dovrebbe essere più come dire un pochino più rigida la struttura e qui per quanto riguarda il torso ci siamo con le dimensioni però qui anche qui insomma andava un attimino più ingrandito ok andava un attimino più allungato un po' più rigonfiato la coscia ok per poter dare appunto quindi anche nel tuo caso mi sembra che che gli arti siano un po' sgonfietti un po' un po' troppo rinsecchiti e non ci sta quindi bisogna tener conto di questi particolari e anche fai attenzione perché le braccia erano un po' troppo allungate per disegnare questa posa correttamente bisogna pure delineare la differenza tra spalle e bacino sono due linee inclinate opposte se guardi la posa è così sì esatto esatto anche quello anche quello sarebbe da analizzare considera serena che in base a quello che io vedo do dei consigli ok questo i ragazzi che mi seguono da più anni lo sanno più uno è bravo più vado a cercare i particolari più uno sta imparando più mi e appunto in quel caso mi concentro su cose più evidenti ok questo proprio perché è giusto crescere per gradi no però ecco piano piano ci si arriva ci arriviamo un po' tutti quanti ok ragazzi grazie grazie per essere stati qui mi dispiace per quelli che non hanno potuto partecipare però ecco sono le 8 e 40 e non è il caso di continuare vi ricordo che se volete partecipare ecco è assolutamente fondamentale riuscire a postare il vostro disegno nell'orario quindi entro la scadenza e nella categoria giusta questa è una cosa veramente fondamentale perché a volte se sbagliate categoria oppure non inserite il disegno nella giusta categoria finisce che non non lo guardo quindi la categoria è fondamentale e la scadenza tutti i miei diciamo gli esercizi i contest tutte le cose che faccio vedere scadono il giorno stesso alle 6 di pomeriggio perché ho bisogno di quell'oretta di tempo per poter archiviare i vostri disegni strutturarli cercare di organizzare la live ovviamente tutto qui ok quindi noi ci vediamo mercoledì mercoledì ci vediamo alle 19 avete tempo fino alle ore 18 per poter postare il disegno per il contest vi dico anche che questo venerdì uscirà un video è ok perché il venerdì scorso non ci sono riusciti o per motivi di lavoro e altre problematiche non sono riuscito a farlo però questa volta ce la farò e quindi niente possiamo salutarci qui e andare tutti a cena ok ragazzi grazie per essere stati qui e ci vediamo la prossima volta fra due giorni ciao 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 Grazie.